ragazzi buon gododay e bentornati su eldenring mamma mia quanto tempo è passato siamo tornati con il nostro sus incredibila sus run incredibile pazzesca assurda io non mi ricordo assolutamente niente ragazzi questo perché avevo registrato il prologo di powerworld e di eldenring anzi che mi ricordo i tasti della tastiera un bel po prima di iniziare il capitolo 3 di poppin time ora che poppin time è finito io piano piano devo iniziare a registrare i video incredibili e sia di powerworld che di eldenring i tasti sono un po così e così però 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 adesso torneremo più forti che mai ragazzi il vostro sus che tra l'altro è sempre qui sus che mi guarda malissimo che giustamente dice che vuole vincere qualsiasi cosa però non ha capito che qui la situazione è un po' problematica ah nello scorso episodio eoni fa abbiamo sconfitto il cavaliere incredibile abbiamo preso la sua la barda pazzesca avevo preso l'anello sì questo me lo ricordavo abbiamo le frecce ma non abbiamo un arco allora ho comprato l'arco ce lo mettiamo subito a carico pesante perfetto rimuoviamo subito l'arco la nostra esperienza con l'arco è durata poco io andrei tantissimo proprio a sbloccare la cosa dei draghi che mi ricordo più o meno dov'era e in questo momento facciamo la missione di poca perché tra la parte volevo andare a prendere il talismano dragonico quello nella tomba là dentro l'idea di affrontare la cosa arborea non mi va per niente anche se in realtà non ce la bisogna ammazzare però non abbiamo le chiavi vero non abbiamo chiavi sus vero ma intanto direi di andare a sbloccare la cosa dei draghi ma allora dobbiamo andare giù mi sbaglio perfetto siamo morti e bentornato soldering fantastico allora io volevo provare a scendere però non è andata molto bene tra l'altro ovviamente mi piacerebbe anche fare un bel esplorazzo qui di sepolcrite se questa cosa poi vi piace in futuro io ne farò altre con altri personaggi del godoverse magari possiamo creare scheletro grand house q di no tutti personaggi diversi con un fine diverso però l'importante è che ecco io riportare un personaggio almeno a un livello che non sia imbarazzante per fare il dlc dlc essendo super in game come tutti gli altri souls di solito i dlc sono sono famosi per essere abbastanza difficili e nelle condizioni in cui siamo noi dobbiamo fare dei livelli per essere vagamente competitivi nel dlc allora allora io mi ricordo male a cui c'era un mercato da qualche parte certamente tanta roba da fare queste poche solo gli npc chi se li ricorda eccolo vedi vedi lo ricordavo infatti allora tu vendevi lui vendeva le frecce ok vendeva queste allora queste ce le potremmo comprare poi compriamo queste di qua c'è bocca adesso parliamo bocca devo non mettere un attimo quella d'orcia e qui l'arma siamo abbastanza fortini con quest'arma incredibile non c'ha lanza proprio allora qui sbaglio o si poteva evocare un tizio antico cavaliere istvan si me lo ricordo lui era un abile guerriero facciamoci una peutina e direi di partire e direi di partire vai istvan dai non evoco i lupi perchè altrimenti è proprio un massaro dai grande istvan mio padre nooo guarda il cavo uh nice istvan ultima e si va l'altro devo prendere la mano con i tasti del dell'eco devo prendere la mano con la tastiera che ancora non mi sento assolutamente a mio agio non mi sento ok andiamo da bocca grande istvan un fratello eccolo qua bocca eccolo qua guarda la sua storia è talmente triste che veramente paro bocca ma non ci servirà vita no? bocca è andato direi di andare avanti andiamo a sbloccare la chiesetta dei drag incredibili oppla l'ho pure comprato il joystick da mettere per usarlo qui sul pc però ho provato a fare una registrazione non mi ha registrato l'audio quindi boh misteri sus e quindi devo ancora giocare con il mouse e tastiera che però alla fine della fira potrebbe essere più divertente del previsto giocare a mouse e tastiera andiamo con torrent incredibile eccoci qua molto molto bene e questo abbiamo fatto le nostre cose poi c'era un oggetto da raccogliere qua da qualche parte ah no non è niente mi ricordo ciò ah no eccolo là su eccolo là la carne è cotta incredibile abbiamo fatto questo ora voglio assolutamente aspettarvi di andare al castello di forte ferro quindi si forte ferro avete capito di grande pezza speriamo che mi troppo assi il centro a questo punto si continuiamo un po' di esplorazio classico di sepolcride c'era una caravana che mi pare c'era dentro l'ascia dello sbaglio a fare il doppio saltino ho visto a qua ah questa potrebbe essere una brutta mossa per me che brutta drappola hai fatto la tua scelta mi dispiace oh fantastico vi ho detto che la volevo perfetto ok ragazzi un attimo fa vi ho detto mi piacerebbe troppare la loro armatura no vabbè ci rimaniamo male che poi non sto usando neanche il buff della labbarda perchè mi sono un po' comana solo per quello eh mi ha colpito attraverso la carcazza incredibile vabbè questo potrebbe essere un problema che dite massacro? no volevo fare questo no ok vai di corsa ok perfetto perfetto vai ci facciamo un livello eh che ne abbiamo pure bisogno riposti no dai eh ok ok così che poi in realtà non ci facciamo niente giusto per soddisfazione però abbiamo trovato un equipaggiamento che volevo sinceramente questa qui oh molto bene mi piace tantissimo questo pezzo di set bene beh ragazzi adesso cambiamo l'arco cambia tutto quanto eh ve lo dico allora io direi di andare subito a bloccare la nostra amica maga che errore che ho fatto eh lo sapete doveva andare così eccolo eccolo dov'era eh non penso abbiamo speranze di fare quello che sto per fare eh ok avete capito che volevo fare ragazzi sì sono contento che l'avete capito volevo fare una cosa molto figa ma non credo che possiamo farla volevo ucciderlo con il veleno cioè volevo no ucciderlo con il veleno scusa volevo ucciderlo prima di morire di avvenenato c'è speranza c'è speranza ragazzi c'è speranza è importante crederci ragazzi crederci sempre ti prego ti prego ti prego dammi 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 eccola eccola ti prego che vi avevo detto basta crederci nuovo livello oh che soddisfazione allora io vorrei fare un po' di tempra perché assolutamente abbiamo bisogno di avere il filo trasportabile assolutamente almeno per un po' molto molto bene tra l'altro possiamo fare pure un alto livellino quindi dai non penso possiamo comprare niente quindi sì sì voglio apprendere tutto sì 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 dai è lucare ma non ci posso pensare di tornarci non credo comprano niente perché per adesso insomma non siamo maghi molto molto bene allora abbiamo fatto pure quest'altra piccola cosina a questo punto proseguirei per andare a ammazzare il nostro bellissimo e fastidiosissimo amico nella gabbia vi giuro che non mi ricordavo ci fosse quel tizio lì mi ha quasi colpito ci sono quasi rimasto male molto molto bene adesso andiamo a uccidere questo tizio qui sperando di poter evocare il nostro amico club 8 no non lo possiamo ancora evocare perché non ci abbiamo parlato allora aspettiamo per fare questo tizio lo facciamo nel pagare il prossimo episodio qui c'è il nostro amico di cui non ricordo assolutamente il nome perché ragazzi è passato troppo tempo non mi ricordo il nome eh sì lo so allora però se non sbaglio per fare in modo che lui venga aiutarci dobbiamo provare a sfidarlo e poi tornare da lui mi pare la cosa divertente è di non giocare il The Ring dopo tanto tempo perché tende a dimenticarti un po' quello che succede ad esempio qui ci sono tutti i dungeon li faremo la prossima volta sotto c'è il nostro amico di cui non ho assolutamente voglia di affrontare potrei fare una chiacchieratina quasi quasi lui ci racconti tutte le cose e la del frammento è poi questa ok allora se non sbaglio le nostre amiche qui ci vendevano qualcosa che io posso usare come ah eccolo perfetto 1 mi pare che era questo no? armonizza incantesimo dove stava? armonizza incantesimo ok ok adesso bisogna andare a provare si mi ricordo bene meno male meno male meno male il nostro sus adesso sarà la sua prima palla di fuoco incredibile contro i pipistri perché i pipistri vanno abbattuti vai palla di fuoco incredibile pazzesca assurda vai mamma mia ragazzi il vostro sus grande sus guardali niente può sconfiggere chi è? madonna 3 triplo colpo sta passando un qualcosa di una musica se sentite la musica a palla è che sta passando qualcuno davanti al mio ufficio ragazzi non so se state sentendo il casino ragazzi vi chiedo scusa per questo casino infinito non so cosa stia succedendo davanti all'ufficio non so cosa stia accadendo ma credo sia passando tipo un camion con della musica poi per calda è vero che potrete agliarvi tutto e far vedere veramente poco però dai insomma è la prima run insomma voi conoscere del der ring è molto meglio di me una volta lo conoscevo come voi adesso ormai ci devo riprendere la mano vero? allora 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 io direi di provare a non mi ricordo se sinceramente dobbiamo provare ad affrontare Agil o per sbloccare lui che ci può venire ad aiutare quindi in realtà non me lo ricordo questa cosa secondo i miei camcori basta provare ad affrontarlo forse di provare ad andare un colpetto e scappiamo e scappiamo via sì penso possa passare io direi di scappare alla velocità della luce pensavo di fargli più male però vabbè siamo agli al 98 se ne senti fu con il gelato io quando ero piccolo cioè passava qualche volta fu con il gelato giù in paese da me sembra proprio il casino che faceva il carreto dei gelati quindi sarà divertente ora tecnicamente lui dovrebbe aiutarci quindi io direi di evocare assolutamente lui per fare una cosa che non ho veramente mai fatto evocare lui contro Agila non ho veramente mai fatto amici io volevo provare a evocarlo però non mi ricordo dov'è lo devo cercare dov'è il suo segno di evocazione? eccolo ok eccolo è lui? posso? ho fatto un errore ne pentirò tantissimo di questa cosa ah non posso usare il cavallo quando c'è un'evocazione me lo ricordavo questa cosa molto brutta ai 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 ragazzi finirà molto male questa cosa però ti ricordavo molto 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 male che prima cosa che facesse così danno vabbè abbiamo pure l'anello finirà male questo combattimento contro lì ragazzi non lo dico eh perchè io pensavo di poter usare il cavallo invece non lo posso usare e non so neanche come si fanno gli attacchi in salto non me lo ricordo siamo proprio messi male no 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 finirà male vabbè moriremo malissimo vabbè è stato divertente evocare Yura intanto mi pare che c'era un glitch per buggarlo ma io ti giuro ci sono rimasto male che non posso essere torrent quindi mi sa che io direi di fuggire la fuga sarà la nostra migliore alleata ah te lo dico io come posso fare per fare in modo che c'è lui lo porto a uno di vita poi evo con Yura e via potrebbe essere una grande idea mi sto innervosendo ragazzi per questo casino che farò io non avevo idea mi sto veramente innervosendo mi sto veramente veramente innervosendo perchè mi da veramente fastidio perchè già l'audio mio non è perfetto ma nella vita i mezzi sono quelli che sono il non poter neanche fare un gameplay decente mi sta facendo un pochettino arrabbiare allora vediamo un attimo Yura va? allora io direi di portare a uno di vita il drago e poi evochiamo Yura perchè magari ci dice qualche cosa no? soprattutto io non mi ricordo assolutamente cosa possa dire io direi di partire e vediamo come va contro Achille a cavallo allora facciamo intanto passa la testa ah l'ho preso non è andata molto bene ho sbagliato la grande hill verso il cavallo qua non è andata molto bene ma che cosa si trova non è andata molto bene ma che cosa si tratta non è andata molto bene Io mi ricordo che c'era un modo per buggarlo, dico, ecco, per me abbiamo un'arma lui che E' un'arma lui che è un'arma lui Per via! Tutto bene, gioia? Sì, tutto bene. Oh. Speravo in un polvetto più, però, ma... Ok. Ti immagini di svolvere la reddere pegarina? Sicuramente si può prendere la pezza. Vi prometto, ragazzi, che quando affronteremo gli ultimi draghi, li affronteremo con la livella di giocatori di Enderlinder, senza pietà. Ok. Testa. Vai. Un altro polvetto e poi andiamo a evocare Yura, eh? Guarda che spettacolo. Morire ho male. Si è rimesso la vita. Ah. Non ricordavo questo piccolo dettaglio che si rimettesse metà vita. Ah. Io non so che dire sinceramente E scusate l'interruzione ma volevi capire Ma Egil è ubriaco? Cioè Cameron è talmente tanto tempo che non giochi a The Ring Che sei riuscito a fare cringiare pure il drago Ma non lo vedi che si blocca sulle montagne Non è normale che un drago si comporti così Deve affrontare il vostro Quindi Egil vatti sotto e non scappare dalle montagne Devo dire è stato divertente Ah ma allora ci ha fissato Io non ho parole ragazzi Mi sembra che sto giocando una mod Ma non è una mod Ma non è una mod Ma non è una mod Che sigaro Che sigaro Credo ci siamo riusciti Perché l'ho ucciso nel frame in cui Yura è venuto fuori Probabilmente vi avrò fatto vedere un po' di bug Che ci ha avuto il nostro amico Egil Che si era forse emozionato perché non mi vedeva da tanto tempo È stato divertente lo metto Ok perfetto Mi dava niente Ah no perfetto È tutto È stato completamente inutile Perfetto Mi ricordavo mi regalassero qualche cosa Mi ha regalato Sto cazzo Direi di fare un bel livellino Assolutamente Facciamo un bel livellino Nuovo livello Facciamo tempo a 13 No facciamo 30 a forza Gli ultimi 10 minuti Sbloccare patches E andare a eliminare il tisto delle dita sanguinari Ora che abbiamo pure sbloccato Yura quindi If it isn't Narius The bloody finger The end is nigh And Jesus Christ Fai Ecco Molto molto bene Vai Well, well, well Well, well, well Help yourself to a man's personal belongings, eh? You scheming little thief The gods demand repentance Puff up your coil All of it Ehm Well, I know I've done the boss Ok Eccolo qua Eh già, sono molto ragioneone Perfetto Adoro questo dettaglio Per lui parisemente ci vuole morti qua Carino Chissà che l'ha suonato il campanello Eccoci qua Acquista Allora Eh sì Lui aveva le tre zampette Che ne compriamo tutte e tre Ragazzi Ci vediamo prossimamente con questa Suss run incredibile Fin quando non arriverà il DLC Che chissà che succederà Che cosa siamo voi E ci vediamo presto A presto